Ciao a tutti ragazzi, bentornati sulla ottimissima Warcraft 2 Beh, 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 signor Light, buongiorno, come sta tutto a posto? Ragazzi, intanto, partiamo subito ignoranti oggi Intanto che qua sto cuocendo un po' di ottimissimo ferrame E altri esperimenti che stavo facendo Vi faccio vedere che ho due nuovi amici, se sono ancora qua Uno è Alberto e l'altro è... qua dentro, aspettate E l'altro è il mio amico Carlo, ciao Carlo, lui tiene in mano una torcia perché gli piace Che poi al buio ho paura E... a parte questo, oggi faremo qualcosa per riempire la seconda torre Come vedete qua ho un sacco di nuovi amici Ciao Poletti, Poletto, Polina, Polletta, Polluccia, Pollution, Polli Polli che generano, come sapete bene, un sacco di uova Come vedete qua ho già un pochetto di uova perché star qui fermo a fare questa roba qua Ci ha voluto un po' Signore e signori, qui dentro ha intenzione di creare la più grossa farm di polli mai vista Allora, per chi non lo sapesse, qui sulla Warcraft 2 l'uovo di pollo si può cuocere Ed è proprio quello che voglio andare a fare Voglio creare un sistemino Qua sopra per fare in modo di raccogliere tutte le buonissime ovette che questi qua fuori cagano E poi cacciarle qua dentro E per farlo però mi servivano un puttanaio di hopper Che però ho già tutti piazzato E per farlo ho finito tutto il ferro che avevo E infatti ne devo fare un altro Allora, cose simpatiche che devo far vedere in questo episodio Ce ne sono diverse Tra cui un coso che mi permette di mangiare automaticamente Ma non mi ricordo come cavolo si chiama Adesso un attimo che lo vado a chiedere E poi sono tutti i sapling Lore, come si chiama il coso che posso far vedere in episodio e che mi aiuta a mangiare? Benvenuti in un video comunque Ah, ciao Non so se la tengo però Adesso ci vedo Eccolo, eccolo Feeder Helmet Module Grazie Ok, grazie a quelli della Multicore Feeder Helmet Module Che vorrei andare a fare subito Perché come già saprete Il mio elmetto Il mio elmetto amending Quindi non è male Tra l'altro È estremamente semplice da craftare Se avessero un po' di legno Prima dormiamo Che mi dà fastidio Dopo Già c'è il casino Per via del pollame Allora Un po' quello di legno Che anche questo ho dovuto farmarne veramente tanta E niente C'è il buon light che sta sgobbando per me E... Cava il libro Feeder Devo fare la ciotola Che me ne fa 4 per forza Ma vabbè Allora I legnetti 4 van benissimo E 3 pezzi di ferro che ho Feeder Se unito con l'elmetto Dritto dritto in crafting tablet In teoria mi dovrebbe dare L'elmetto con auto feed mode In questo modo io questa roba qua la posso lasciare in inventario E lui automaticamente Mi darà da mangiare quando ho fame Adesso pian piano durante la puntata Lo vedremo Va bene Andiamo a vedere se ho un po' di ferro a disposizione Perché devo craftare Perché devo craftare Oltre ad altre Un altro paio di gear Che mi serviranno per craftare Di hopper Perché qui in questo modpack Questa serve per fare l'hopper Se non è quella L'hopper non lo fai Adesso le facciamo Abbiamo fatto le gear E devo fare altri hopper Cerchiamo Hopper Quanto è comoda questa cosa Che posso cercarle a manazza Non ho le chest Quindi Light Mi di un altro Un altro po' del frutto Del suo duro lavoro Che mi serve Allora Hopper Devo prima craftare questa Bam Dammi sborat Mi la chest Hopper Dammi sborat No troppi 12 12 per star sicuri Facciamone 6 7 7 Mi ci ispira di più E perché Il legno mi serve anche per fare Questi Perché Chi non sapesse Questi cose qua Ho dato una botta al microfono Questi cose qua Al contrario degli hopper Non prendono Dal di sopra Quindi non possono recuperare Da un inventario Ma sono praticamente Cioè in poche parole Sono il fucking Il Come cazzo Il beccuccio Dell'hopper E prolungano Il cablato E penso Abbiano un inventario interno E quindi possono Piluccare in dentro Va bene Avete capito Perché La sopra ci vorrà Una cinta di questi Tutti intorno Che passa sopra Ad ogni hopper Ovviamente In una determinata direzione Quindi sceglieremo Il punto di fine E il punto di inizio E così l'hopper Glielo ciuccia da sopra E siamo tutti contenti E poi dovrò portare Tutti i polli là Utilizzare un minecartino Con hopper Che mi recupera Tutte le uova Altrimenti Servivano altri hopper E sinceramente Non ci ho sbatta Di cantarli Già ho fatto fatica A craftare questi Direi 4 fornaci Per gestire la cottura Delle questioni Che poi dopo Dovrò andare A refillare Con del carburante 7 hopper Dovrebbero bastare Me ne servono Mi sa proprio 12 Vabbè andiamo a fare Gli ultimi 12 hopper Che mi mancavano Cioè gli ultimi hopper Che mi mancavano Perché Potevo arrivare Giusto giusto A 12 speriamo Speriamo che mi bastano Per le 4 fornaci Perché me ne serve Vado a provare A piazzarli Sì sì no Non ci bastano Mai nella vita Vado a farne altri 54 pezzi Direi che già È un'ottima cosa Dammi un altro Stacchettino Di questa roba qua Perfetto Allora Ho già piazzato In maniera molto tattica Qua un elevator E facciamo così Questi cosi Sono molto Molto Molterrimamente Più comodi Per il semplice motivo Che Insomma Costano molto meno Degli hopper E Uuuuh Che paura Pensavo di cascare Costano molto meno Degli hopper Se ne possono fare Molti di più E Insomma Sono limitati Come Come utilizzo Rispetto all'hopper stesso Però Figa raga Risparmi una quantità Di ferro Che ha dell'imbarazzante Ok Non so esattamente Quante uova Posso mettere qui dentro Ma penso tante Tu Ok Perfetto Si collega Poi li dobbiamo collegare Uno Due E tre E qui Fornaci Che Vado a piazzare subito Perché altrimenti Mi dimentico Quindi Devo pensare bene Così 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 E così Perfetto Te ti devo spostare Un po' più in alto Le uova Ci dovremmo andare Dal di sopra Quindi Qui Minecraft Allora Non posso far così E vi spiego Il perquè In maniera anche Abbastanza tranquilla Sì Sono contento Sono contento Sono contento Della questione Ah tra l'altro Dovrò craftare anche Le rail Che non ho Oh Niente a piangere Ed è morto il server Yeah Crashiamo tutti insieme Tutti insieme Allora A parte rumori di zombie E cose fastidiose Sei riusciti a rientrare Nel server E Pigliaci per favore Grazie mille Grazie Grazie Gli unici hopper Che mi servono Sono quelli Di sopra Allora Però Vediamo un po' Allora Qui passerà il minecart Quindi Passandoci il minecart Devo salire Di un altro blocco Perché il minecart Non mi interessa Per questi qua dietro Dato che servono solo ed esclusivamente Per gli hopper Cioè Gli hopper servono per le chest Qui c'è Il livello asfalto Dichiamiamolo così Come anche lì E qui ci saranno le effettive chest Che ho già Quindi potrei anche decidere di Parcheggiarle Che serviranno per carburante E mi servono trapped Ottimo Yeah Sono molto contento di questa cosa Andiamo a prendere delle trapped chest Allora Sarà un po' noioso questo episodio Me ne rendo forse conto Però è una cosa che può essere Molto interessante Ah Dimmi che ci arrivo Non ci arrivo Perfetto Una e una due Perfetto E anche le trapped chest Sono sistemate Ora Oltre a rimuovere Questa Questione qua Che non mi interessa Devo fare Il circuito per il minecart Che sarà Allo stesso livello Di questi qui Quindi Per adesso Faccio solamente Il circuito Adesso farò solamente Il circuito Per il minecart Che sarà a questo livello qua Quindi Wandissima alla mano Perfetta Tanto si fa presto Con la wandissima Lagga vagamente Ma Speriamo di arrivare Fino in fondo Poi dopo ovviamente Il tetto sarà Cioè La parte superiore Sarà un po' più in basso Ok Perfettissimo Potrei anche chiudere Ma non lo farò per il momento Perché non mi interessa Particolarmente Chiudere La questione Però A parte due uova in inventario Che non me ne faccio Assolutamente Nulla Al momento Dobbiamo continuare Il nostro meccanismo Allora Rotaglie Pregando il cielo Di avere il ferro necessario Allora Check Non mi serve Allora Ascensore Salga Grazie Allora Linea centrale Più o meno Centrale Almeno 9 Allora sono tutti I blocchi power Del rail Sperando Sperando che non mi si bug Va bene così Queste le facciamo Tutte così Turnichino E adesso Ci devo mettere Le prepotenti Benissimo Fino in fondo Le metto anche qua Per piacere Dovrebbe bastare La potenza Ma si Facciamo le Fino in fondo Che Vabbè Anche se perdo i blocchi Là sotto Tanto non è che scappano Massimo Despawnano Ma Seconda linea Di blocchi di redstone Così arriviamo Fino in fondo Con il segnale Acustico E qui ci arriviamo Perfetto Qui deve Turnicare E tornare Indietrolo Così Perfetto Bravissimo Bravissimo Qui Mi turnichi Per piacere E ricominciamo Da capo E' una cosa Un pochino Rottura di valle Questa da fare Ma Ok Parte Interessante Fatta Carrellino Da parcheggiare Sopra Possiamo Spingerlo Non è importante La direzione Vediamo Che Tranquillissimamente Dovrebbe farsi Tutto il suo Bellissimo Tragitto Allora Io me ne vado Dal di qua La seconda striscia Deve essere Un blocco Quindi Dobbiamo Lasciare stare Questo Ma deve essere A pari Di questo qua Quindi Blocco qui Possiamo metterlo Tranquillissimamente Anche qua E adesso Pian piano Sempre A parte Dove c'è L'elevator A pari Dell'elevator Ma sono Un mostro Adesso Per adesso Lascerò Questo tappettino Qua Al massimo Ci metto Qualcosa Per farlo Sembrare Più ficcante Allora Vediamo un po' Di buildare La nostra Bella striscia Non perché Il minecart Sia bello Ma semplicemente Perché Tende a Buggarsi Il minecart Ergo Io preferirei Che evitasse Di buggarsi Cioè Lavoro in questo Modo Perché Così Io so Se il minecart È buggato O meno Allora Cosa importantissima Da fare Ora È recuperare Da una fornace E vabbè Poi dopo faremo Un bel soffitto Quelle lì le riempirò Di vortalco Ora Cosa mi manca Il vetro gliel'ho messo Mi manca Altra stone Che vado immediatamente A recuperare Come anche il carbone Ne ho un sacchissimo Risaliamo E adesso Buildiamo la stone Qua ai lati Che potrei anche Tirare giù in effetti Però non ci ho pensato Ma va bene È un po' brutto Da vedere Ma tanto Ci dovrò tornare Solo ed esclusivamente Per fidare i polli Il resto Non si deve vedere Farò una building Solamente del soffitto Potrei farlo anche Con delle lucine Industriali Veramente ignoranti Per far vedere Che questa è un'industria Di pollame Perfetto E andiamo di qua E con lavanda Ora che è tutto Bello 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 Chiuseo Dovremo contenere I polli All'interno di Questo recintozzo Devo fare il recintozzo E lo devo fare Con le fences Che non so se ho già Abbastanza Non credo Perché ne ho fatte Veramente pochissime E non le sto trovando Tra l'altro Allora mettiamo via La stone al volo Nel dubbio Ne faccio delle altre Difenses Qual è il problema Guardate qua Il legname Ora chiudiamo Il pollaio La polleria Deve continuare Il progetto pollaio Questo è Il progetto pollaio Torniamo di qua Qui sono stato largo Di un blocco Vacca puttana Vabbè Chiudiamo così Ora non resta Che portare Il pollame Poi portiamo Il pollame Di sopra E lo riproduciamo Al volo Spacchettiamo Il nostro bellissimo Coal E mettiamolo Qua dentro Il più possibile Mettiamone un pochettino Comunque Ora le fornaci Possono cuocere Ed è ora Di portare su Il pollame Quindi noi Ci rivediamo Tra pochissimo Col pollame finito E spero I primi frutti Del nostro lavoro Ci vediamo dopo Bene signori e signori Come vedete Nel mio inventario Ho un Quantitativo Notevole Di uova E adesso Ovviamente Le andremo a Spaccare Spacchettare Tutte Qui dentro Via Una vitragliatrice Impazzita Non finirò mai Nella vita Ah è vero Qui Le uova Quando si rompono E non c'è il pulcino Caga fuori Questa roba qua Quelle robe lì Che sono da mangiare Si possono cuocere Praticamente Ci fai la frittatina Ah Veloce 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 Aspettate che Sentite 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 Ah che fatica Vabbè signori Spacchettando uova A questo punto Vi saluto Noi ci vediamo Nel prossimo episodio Comunque ci vediamo Nel prossimo video Mi raccomando Like Iscrizione Passate dai canali Degli altri ragazzi Che partecipano Alla Warcraft Che sono qui in descrizione Detto questo Vi saluto Ciao a tutti Ciao a tutti